Sabato drammatico sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, dove sono decedute due persone, e del Veneto, dove è morto un giovane americano. Nel comune di Ovaro è stata rinvenuta senza vita Rita Garibaldi, la 76enne della frazione di Ovasta, le cui ricerche erano scattate poco prima delle 13 nei boschi sopra il suo paese. Dopo circa un'ora è stata avvistata la sporta in cui aveva raccolto i funghi e poco più in là, oltre il ciglio di un dirupo, è stato individuato il suo corpo. Come spiega il soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, la donna è ruzzolata per una quarantina di metri verso il fondo del rio Iesola, nel canale incassato tra rocce scoscese. Per recuperare la salma, i tecnici si sono calati sul fondo del dirupo, l'hanno sistemata nella barella e hanno effettuato altre calate per un centinaio di metri per raggiungere una strada sottostante. L'intervento, a cui hanno collaborato le squadre di Fornia Voltri, del soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, si è chiuso intorno alle 15.45. Tra le Dolomiti Friulane, nella zona di Forni di sopra, è morto invece un escursionista veneto della provincia di Padova, dopo essere precipitato nel pomeriggio, come informa sempre il soccorso alpino e speleologico regionale, in un'area sopra il rifugio Flaiban Paccherini. È stato recuperato dall'elissoccorso con il verricello sotto la parete nord-ovest della cima Valdiguerra, che l'uomo stava salendo lungo la via normale con due compagni. Sarebbe scivolato su un tratto friabile, precipitando da una cinquantina di metri. In Veneto, un escursionista americano 24enne ha perso la vita precipitando per oltre 150 metri dalla strada delle gallerie sul Pasubio, mentre si trovava con un amico all'uscita della ventitresima galleria, ha perso l'equilibrio sul bordo della Scarpata ed è caduto nel vuoto. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Anche in questo caso, il recupero del corpo è stato effettuato dall'elissoccorso e dai tecnici del soccorso alpino e speleologico competenti per l'area.